E siamo giunti all'undicesimo incontro insieme. Per il primo esercizio ci posizioniamo a terra, ci sediamo e poi la schiena a terra, i piedi alla larghezza delle spalle, posizioniamo le mani ai lati delle ginocchia e spingiamo le ginocchia verso l'esterno tenendole con le mani, spingiamo per 10 secondi e poi riposiamo. Ripetiamo il tutto per 5 volte. Per il secondo esercizio rimaniamo seduti e posizioniamo le mani all'interno delle ginocchia. Premiamo le ginocchia verso l'interno e manteniamo la pressione per 10 secondi. Ripetiamo il tutto per 5 volte. Per il terzo esercizio ci sdraiamo a terra su un fianco, distendiamo le gambe, manteniamo le gambe distese e una gamba tesa si stacca verso il soffitto, ritorniamo in posizione e ripetiamo il tutto per 10 volte, sul lato destro e poi sul lato sinistro. Undicesimo allenamento terminato ed è finito anche il nostro anno insieme. Un auguri a tutti, buon anno nuovo! Grazie! 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 Grazie!